Dopo il periodo pandemico che aveva sottratto i colori al reparto pediatrico pesarese, ora quest'ultimo torna ad essere animato, grazie al progetto sostenuto da Abio Pesaro, che ha visto oltre 20 opere di Sally Galotti, autrice anche di Walt Disney, andare a colorare l'intero reparto, da opere nei corridoi a quelle sui soffitti, affinché i bambini, con lo sguardo rivolto verso l'alto durante un intervento, possano distrarsi e divertirsi con le figure animate. Questo è uno dei 27 pannelli che sono stati applicati in tutto il reparto e oltre a questi 27 pannelli ci sono anche una serie di controsoffitti, tutti realizzati ovviamente in materiale atossico, in materiale antibatterico e che servono per cercare di rendere questo reparto finalmente nuovamente un reparto pediatrico, perché sapete questo reparto è stato chiuso per tre anni e qui dentro c'erano i pazienti covid, i pazienti adulti, quindi avevamo bisogno di ricreare un ambiente che fosse più a misura di bambino. Un ambiente a misura di bambino che ci serve per tante cose, perché i bambini stanno meglio se naturalmente sono in un luogo che gli crea maggiore serenità, maggiore armonia e tutto questo stimola la fantasia, stimola l'immaginazione, ma per noi è importantissimo perché anche creare quella sorta di alleanza terapeutica che c'è tra i bambini, i genitori e gli stessi operatori sanitari rende il nostro lavoro molto più fluido, molto più piacevole ed efficace, ma soprattutto crea meno problemi in quello che è l'ansia, la paura, l'angoscia legata al ricovero e quindi anche un po' quello che è il trauma del ricovero. Quindi questa è una stimolazione sensoriale a tutti gli effetti, una stimolazione sensoriale positiva che fa sì che tutto quello che è anche terapia venga accettato meglio e si è visto anche da studi internazionali proprio che tutto questo favorisce l'efficacia delle terapie stesse. In ciascuno di questi pannelli qua poi ci sono tutta una serie di particolari, tutta una serie di storie che sono tutte diverse l'una dagli altri e ciascuno di questi pannelli contiene proprio un racconto che può essere anche scaricato, se guardate dopo vi faccio vedere qua c'è un QR code che corrisponde praticamente ad ogni pannello. Il dottor Tartagni ringrazia poi Abio e l'autrice per l'immenso regalo fatto al reparto, ribadendo come quei lavori siano di immenso aiuto per i bambini ma anche per il lavoro degli stessi medici. L'autrice infatti, le cui opere sono presenti anche in altri ospedali, non è stata scelta a caso. Felli Galotti è stata selezionata da noi proprio perché oltre a questa esperienza molto ampia e molto diciamo performante per la realizzazione di questi pannelli, cumula in sé anche una specializzazione perché collabora con l'Università Alma Mater di Bologna per vedere e valutare quali sono proprio sia graficamente che per le dimensioni, che in generale quali sono i moduli più adatti per poter realizzare questa umanizzazione pittorica, cioè aggiunge un'esperienza anche, voglio dire, universitaria e quindi specifica rispetto a quella di cartonist della Walt Disney. Tra l'altro si vede che questi pannelli recano immagini che sono assimilabili a quelli di cartoni già noti, ma ripeto, aggiunge lei qualcosa in più perché collabora con l'Alma Mater Studi di Bologna proprio per la valutazione sotto il profilo psicologico di che cosa è meglio e come realizzare questa umanizzazione pittorica.